Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Claudio e in questo video vedremo 5 angeli ripresi da una videocamera. Mito in realtà, infatti in questo video parleremo proprio degli angeli e quindi di avvistamenti di queste creature alate ripresi da una videocamera. E già vi avviso che molte clip sono davvero molto interessanti. Se volete altri video di questo genere mi raccomando lasciate un bel like ed inoltre vi volevo far vedere queste foto che mi ha mandato un fotografo di Roma su Instagram. Ecco qua queste foto che mi ha mandato questo ragazzo perché le trovo davvero molto interessanti. Sinceramente non c'ho parole per descrivere queste foto e non so neanche se siano vere. Però in ogni caso le ho volute inserire proprio nella intro perché le ho trovate molto interessanti e casomai qui sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di queste immagini. E come ho detto sono state riprese qualche giorno fa da un ragazzo a Roma e me le ha mandate gentilmente su Instagram. Anche se in realtà ho notato che siete molti a mandarmi delle foto o video misteriosi su Instagram. E giustamente mi dovete far spaventare mandandomi su queste cose. Comunque io non so se voi siate credenti o meno casomai qui sotto nei commenti fatemelo sapere se siete credenti. Sono davvero molto curioso. Però c'è da dire una cosa che la figura dell'angelo che deriva dall'antico greco Angelos che significa messaggero. Nonostante la figura dell'angelo sia stata associata al cristianesimo, all'islam e a tutte le altre religioni monoteistiche. In realtà c'è da dire che questa figura era presente anche nelle civiltà antiche come per esempio l'antico Egitto. Infatti come potete vedere da questa immagine è presente proprio l'entità Ba che era un'entità proprio a forma di angelo. Cioè un uomo con le ali. Comunque adesso come sempre saluto i sei fortunati di oggi che sono. Nando Borrelli, Creeperboy90, Kadri Musli, Tiziano Indelicato, Mario Teresi e Luca Sollazzi. Se anche volete essere salutati al prossimo video mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al questo canale, attivate la campanella, condividete questo video ai vostri amici e commentate qui sotto con salutami. Se volete essere salutati al prossimo video e adesso direi di cominciare subito con questa top. Il primo filmato che troviamo è davvero molto inquietante. Almeno per me davvero è molto inquietante. Poi non lo so, può essere che voi non lo troverete così inquietante, però nel mio caso devo essere onesto, sì l'ho trovato molto molto inquietante. Comunque viene ripresa una creatura che sembrerebbe essere proprio un angelo, anche se potrebbe anche trattarsi di un'animazione, questo ovviamente non è da escludere. Però non possiamo neanche dire con certezza che il filmato sia falso. Comunque adesso direi di farvi vedere subito questa clip e casomai qui sotto nei commenti fate sapere una vostra opinione. Vediamola. Adesso invece troviamo un filmato. Anche in questo caso davvero molto inquietante. Anche perché sul web, non in Italia ma in altri paesi, si crede che questo filmato che adesso vi faccio vedere e quello lì precedente potrebbero essere veri. Però a questo punto direi di farvi vedere direttamente il filmato. Vediamolo. Grazie a tutti. Adesso invece troviamo uno dei filmati più interessanti forse di questa top Visto che questo filmato è diventato virale in tutto il mondo Quindi è probabile che alcuni di voi già sapevano di questo filmato Comunque in sostanza in questo filmato viene ripresa una creatura alata E ci sono tutti i turisti che ovviamente sorpresi da questa cosa riprendono questa creatura Però adesso direi di farvi vedere subito questo filmato Adesso invece troviamo un filmato molto impressionante In cui vengono ripresi non uno ma non due ma ben tre angeli E sinceramente non so davvero cosa dirvi Perché se si tratta di un'animazione davvero fatta molto bene Però ripeto in America molti credono che questo filmato sia reale Quindi in realtà non so cosa dirvi Anzi una cosa la so Vediamo subito questo filmato Adesso invece troviamo un altro filmato che è diventato molto virale In cui vengono riprese delle creature che sembrerebbero proprio essere degli angeli Ci tengo a precisare che questo filmato talmente che è diventato virale È finito anche in molti canali televisivi del Sud America Però adesso direi di farvi vedere subito queste inquietanti immagini In cui vengono ripresi non so Va bene ragazzi questo video è finito qui sinceramente almeno per me è un video molto interessante e anche misterioso Quindi se l'avete trovato di vostro gradimento o comunque interessante lasciate un bel like per supportare questo video e magari se volete una seconda parte Ed inoltre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a questo canale e attivate la campanella che porto top di vario genere quindi non solamente questo tipo di top E se non l'avete ancora fatto seguitemi anche su Instagram questo è il mio nickname del mio profilo ufficiale ed inoltre lei potete mandare anche le vostre foto, le vostre storie, i vostri video misteriosi Va bene noi ci becchiamo al prossimo video, bella!